ciao a tutti i ragazzi e bentornati su questo nuovo video sono farlo questo nuovo video ragazzi siamo su zennel di haribo ragazzi questo video dovrebbe uscire ieri sera non è che avevo paura che dovevo andare a mettere la scuola beh questo video lo pubblicherò forse lo pubblicherò stasera ma non lo so lo pubblicherò ora quando avevo fatto il video il video veniamo a per giocare e se l'entra arrivo per me un gioco vecchio perché la foto che fa vj mi ha tutta la mia cazzo tempo non vero un cazzo se vuoi però lo solente io so chi è per caso l'assassino l'assassino mi sono start game i ragazzi se questo video raggiunga raggiungerà che raggiunga raggiungerà i 12 like esagero ragazzi 12 rai che vi fare un altro un'altra puntata di gioco ora voglio cosa succede so spazio mi ha mai ammesso ma che cazzo me lo so mi fa leggere ok bella giornata ah 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 sto qua sotto ragazzi e buio nel gioco non lo so se c'ho le palle di farlo che mi sto già tremando ho sentito già incamminato e il gioco mi sto cadendo sotto ragazzi non so se ce la faccio ragazzi con i minuti facciamo sto cadendo sotto no dai mi sto cadendo sotto troppo ragazzi sto cadendo sotto perché tutto perché tutti l'hanno fatto io no camera vision l'ho 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 vedi no col cazzo la notte me due in medio mi sto cadendo sotto ma vaffan ragazzi ma vaffanculo ragazzi soffro di cuore 9 minuti beh ragazzi questo video è finito così poi vi continuo perché i minuti sono già passati quindi ragioniamo i 12 like e vi farò no sarebbe sarebbe finito perché appare perché ho già fatto già giocato può che appare lo slender poi si uccide è finito per me che ho già fatto giocato quindi ragazzi ciao 12 like un altro gioco horror quindi ciao ciao